Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, ancora un furto in un'azienda di preziosi dell'Aretino, ma adesso è finito in manette un indipendente infedele. L'uomo a 39 anni e Aretino addetto alla lavorazione di preziosi si sarebbe infatti reso responsabile del furto continuativo di metalli come argento pure in grani oppure monili e semi lavorati. Il tutto sarebbe stato immortalato anche dalle telecamere di video sorveglianza. La refurtiva pare venisse portata via e trasportata a casa per poi poterla rivendere e quindi mettere in atto anche la ricettazione. Il totale della refurtiva sequestrata monta 4,5 kg di argento tra monili e argento pure in grani per un valore di mercato pari a 4.450 euro. Sul tema sicurezza nelle ultime ore sono intervenuti anche i consiglieri regionali del PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis che hanno presentato una mozione in consiglio regionale affinché la regione si attivi e hanno dichiarato in seguito alle proposte emerse nel corso dell'incontro alla Viminale dello scorso 17 luglio nei confronti del Governo nazionale a tutela della sicurezza del settore oro-fuaretino, ambito strategico per l'economia di tutta la provincia. Ed è stata invece una corsa contro il tempo oltre il traffico, quella degli operatori della misericordia di San Giovanni e Cavriglia per trasportare una paziente al trapianto di fegato. Nella notte tra giovedì e venerdì l'uomo era partito con la sua auto, sarebbe dovuto arrivare in Veneto alle due di notte ma a un certo punto si è accorto che non avrebbe fatto in tempo. Così ha avvertito il 118 che attraverso la centrale operativa lo ha messo in contatto con l'associazione valternese per un trasferimento a tutti gli effetti in codice rosso e dunque di massima priorità. L'incontro all'uscita del casello Valdarno anche con un servizio di scorta della stradale. L'uomo fortunatamente è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale in tempo per le procedure di trapianto dell'Orga. E adesso voltiamo pagina per tornare a parlare della FIMER, sarebbe infatti vicina alla svolta. È partita ufficialmente la procedura per la cessione con il via libera alla manifestazione di interesse cauti e restano i sindacati. La FIMER c'è, continua ad esserci, produce e continua ad avere tutto l'insieme di ricchezze date dal patrimonio soprattutto del know-how delle persone, che è la ricchezza più importante del suo stabilimento, fatta di competenze, conoscenze e tecnologie. Nuovo importante capitolo per la FIMER, l'azienda che si occupa di inverter nel settore fotovoltaico e che ha sede a Terronova Bracciolini e a V-mercate Monza-Brianza. Si trova in questo momento in regime di amministrazione straordinaria. I commissari hanno pubblicato nelle scorse ore l'informativa che dà il via al processo di cessione. In passato l'azienda è stata al centro di una lunga e complicata vertenza. Adesso potremmo essere vicini alla parola fine, una conclusione dunque positiva, ma i sindacati sono cauti. Va da sé che è l'ennesimo tassello, ma non è questo il passo risolutivo. Ovviamente è importante, ma sarà fondamentale vedere le offerte che perverranno alla procedura, i soggetti manifesteranno appunti interessi e soprattutto che connotazioni avranno. Fondi di investimento, realtà, convocazioni industriali, piani industriali, cioè è tutto ovviamente prematuro, di fatto comunque sono argomenti da discutere nelle sedi preposte dove dovremo appunto confrontarci quando sarà stabilito chi sarà appunto il soggetto, l'aggiudicatario dell'acquisizione dell'azienda. Questo stabilimento ha bisogno di una politica seria di investimenti, di rilancio, per cui sarà assolutamente fondamentale, come il criterio da parte nostra di valutazione dei soggetti, arriveranno ovviamente, quello che sono i progetti e il piano industriale sulla realtà appunto di Terranova che noi auspichiamo possa continuare ad avere quel ruolo importante per l'economia di un territorio intero, così come ha sempre avuto. È stata un'azienda sempre improntata all'innovazione tecnologica che ha contribuito e contribuisce tuttora alla ricchezza di un territorio intero. Samania, al mercato di San Giovanni Valdarno, invece è iniziata la raccolta firme contro l'autonomia differenziata, un referendum per abolire la legge Calderoli. Il no a questa norma sta coinvolgendo un numero sempre più grande di associazioni, gruppi e partiti, commenta Alessandro Tracchi, segretario della CGL. La nostra opposizione non è legata solo all'identità sindacale. La regionalizzazione dei contratti di lavoro determinerebbe infatti una corsa a ribasso con la riduzione dei salari ed ancora l'autonomia differenziata metterà in discussione l'eguaglianza, i diritti fondamentali come istruzioni e sanità. Con il referendum sull'autonomia differenziata non si tratta di dire solo sì o no, conclude Tracchi, ma ad una legge ma ad una visione sul futuro della società italiana. E adesso parliamo di sanità tra casi Covid in aumento negli ultimi giorni e malori dovuti all'accaldo e accessi al pronto soccorso anche a retino registrano numeri importanti. Persino Joe Biden è alle prese in questa calda estate con il Covid. Non è l'unico, ovviamente i casi ci sono anche nel territorio a retino, anche perché per i ricoveri, ad esempio, è ancora obbligatorio il tampone. Nonostante ciò gli accessi al pronto soccorso, crollati in epoca Covid, sono tornati a numeri importanti. Sono in netto aumento rispetto all'anno scorso e si sta tornando sui numeri di pre-Covid, quindi stiamo tornando a noi. Ad Arezzo in particolar modo, anche non tanto vicino a ora, tipo marzo-aprile, abbiamo avuto anche 240 accessi al giorno. Quindi numeri importanti che fanno ritornare il pronto soccorso in era pre-Covid e quindi sono abbastanza impegnativi. Come se lo spiega? Perché le persone hanno meno paura di accedere al pronto soccorso? Io credo che quello che ha detto sia la realtà vera. Cioè abbiamo goduto, se vogliamo dire così, di un periodo in cui una certa paura del paziente c'era, nel rischio della malattia e ora si è allentato molto, anche se comunque i casi di positività Covid ci sono, ci sono anche in aumento, ma la malattia Covid respiratoria di per sé ormai è rarissima. e quindi l'utilizzo del pronto soccorso è tornato in essere a quello dell'era pre-Covid. Il tampone per verificare se si è positivi o negativi, si fa ancora? Il paziente lo può rifiutare? No, si fa nei pazienti che ricoveriamo, va bene? Oppure lo possiamo fare anche nei pazienti in cui c'è una sintomatologia similinfluenzale o compatibile e poi dimettiamo per potergli dire che sono positivi. Ma fondamentalmente il 99% dei tamponi che vengono fatti al pronto soccorso sono perché c'è ancora una legge nazionale e regionale che ci dice che per ricoverare nelle parti è chiaro che sono tutti pazienti positivi per caso, come si dice in gergo. Cioè è una patologia che non c'entra niente con la malattia però questo dopo ti costringe a isolarli in ogni reparto e quindi insomma dal punto di vista organizzativo è una cosa abbastanza pesante. Ancora Sanità, una nuova donazione ai volontari della Croce Bianca che guarda adesso alla sicurezza. È un gesto che noi interpretiamo come gesto di incoraggiamento per chi fa volontariato. Noi dobbiamo dire anche comunque che la città di Arezzo nonostante che siamo come diceva Dante che ci azzeccava a botoli ringhiosi però effettivamente la generosità non manca ecco anche perché siamo discendenti, dobbiamo essere discendenti di quel mecenate che inventò il mecenatismo. Ancora un gesto di solidarietà nei confronti dei volontari della Croce Bianca di Arezzo. Otto paia di scarpe e infortunistiche donate da un'azienda del territorio un gesto che guarda alla loro sicurezza. Sono necessari per esplicare il nostro servizio in quanto trasportiamo letti, carrozzine è possibile anche che succedano certi incidenti e con queste scarpe ci mettiamo in condizioni di poterlo svolgere nel migliore dei modi. Perché ho una grossa stima e volevo dare un valore aggiunto a questi ragazzi che fanno un lavoro immenso spesso non viene riconosciuto e non viene valutato e quindi ho pensato di poter donare a loro qualcosa che gli fosse estremamente utile perché si parla comunque di sicurezza e che avessero modo così di lavorare con più sineralità e con più tranquillità nei loro ambienti. Secondo me se lo meritano. Fanno un lavoro eccezionale e in pochi glielo riconoscono perché è un lavoro silenzioso, è un lavoro che non si vede ma in realtà è un lavoro veramente, veramente eccezionale. Io spero che questa piccola cosa possa essere esempio per chiunque voglia dare loro una mano in tutti i sensi se non è per le scarpe, i vestiti per qualsiasi modo possa essere utile a questi ragazzi. Dopo giorni di caldo torrido l'anticiclone africano finalmente allenta la morsa anche con alcune brevi precipitazioni che hanno interessato il territorio aretino soprattutto nell'alta valle del Tevere e nel basso Casentino. Resta comunque alto l'allarme incendi e proprio in Ballarno abbiamo visitato la sala operativa provinciale dell'Unione dei Comuni del Prato Magno. La situazione attuale degli incendi boschivi in regione toscana. In dettaglio questi simboli rossi sono incendi boschivi attivi. Siamo all'interno della sala operativa provinciale dell'Unione dei Comuni del Prato Magno con sede a loro ciuffenna. È qui che saranno coordinate le operazioni antincendio per la provincia di Arezzo sarà aperta 24 ore su 24. L'organizzazione regionale AIB è un'organizzazione molto complessa in quanto si avvale di molteplici forze. È personale dell'Unione dei Comuni del Prato Magno che in provincia di Arezzo sono tre. Personale del volontariato in provincia di Arezzo sono circa dieci sezioni. In più regione toscana stabilisce convenzioni con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali. Inoltre in regione toscana abbiamo diverse vedette che monitorano il territorio. Fortunatamente la stagione tardo-primaverile con le piogge che sono state ha fatto in modo e in maniera che nonostante gli eventi si stiano verificando non hanno un impatto, un'intensità importante. Infatti le segnalazioni che arrivano per fortuna riescono a risolversi con eventi non particolarmente rilevanti. Chiaramente se la stagione continuerà con questo trend andremo incontro a delle criticità che chiaramente poi dovranno essere affrontate nella maniera più tempestiva possibile. La legge regionale della Toscana impone il divieto assoluto di accensioni fuochi dal primo di luglio al 31 di agosto. Quindi ovviamente il divieto si estende a tutte quelle forme che poi possono portare alla propagazione e all'innesco degli incendi. Quindi massima cautela e chiaramente se uno deve fare il classico barbe più vicino a casa quello non lo può fare ma con tutte le cautele del caso soprattutto anche in condizioni di forte vento perché chiaramente il combustibile fine è quello che prende per primo e quindi anche una piccola scintilla o una piccola braccia poi può portare a conseguenze piuttosto spiacevoli. Assegnata la borsa di studio Bruno Dei 2024 sull'economia e il management sanitario è andata da Alice Fontanelli dell'Università di Bologna. La borsa di studio è un'iniziativa della CRT in collaborazione con la fondazione Gianfranco Salvini e il patrocinio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Firenze. La cerimonia di consegna della borsa di studio si è svolta a San Giovanni Baldarno alla presenza anche della Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni. In autunno verrà poi pubblicato il abbando per la prossima annualità. E adesso andiamo in Casentino dove prosegue l'edizione 2024 di Naturalmente Piano Forte tanti eventi anche della terza giornata. Vediamo. Vorrei che ci gettassimo questa sera insieme all'avventura in questa oretta di concerto. La giovane pianista e emergente Isabella Turzo al Castello di Porciano ha aperto la terza giornata dell'edizione 2024 del Festival Naturalmente Piano Forte che quest'anno ha portato in Casentino un'onda musicale fatta di 90 concerti e composta da 170 artisti un appuntamento dedicato alle atmosfere magiche della notte. La notte è stata per me non solo una grande fonte di ispirazione ma anche terapeutica lo dico sempre in un momento particolare della mia vita ma voglio dire non è solo per me penso che sia per tante persone è un momento, una fase un po' una realtà parallela dove trovano rifugio i pensieri e si illuminano ecco in realtà non vedo oscurità in questa fase ed è stata per me molto creativa quindi ho scritto le musiche di questo album di notte. Poi un tuffo nella storia della tradizione rock d'autore con la band di Filippo Graziani che a Stia ha ricordato il canzoniere del suo indimenticato papà Ivan. Ci sono cose che stanno in cielo e in terra molte più cose tu te le vedi in tv in tv dischi soprattutto anche oltre a canzone proprio dischi interi che ho avuto la fortuna cronologica di vedere nascere purtroppo non tanti ma alcuni sì per ultimo ma sì ultimo l'ultimo disco di papà che abbiamo fatto uscire adesso a gennaio scorso che è in definitiva l'ultimo disco della carriera diciamo cantautorale di papà insomma le ultime preproduzioni lavorabili che avevamo sono quelle diciamo che va a chiudere un po' mettere un po' un cappello ideologico sulla carriera di papà. A Prato Vecchio un doppio appuntamento sul palco prima Vincenzo Danise con le storie che si nascondono nei vicoli di Napoli poi Mark Baldwin Harris Infine un epilogo di giornata con un set speciale un dialogo tra la sperimentazione sonora di Daniele Ledda e la performance visuale opera di Sara Pittovini che ha dipinto sul fluire della musica. L'edizione 2024 ha visto per la prima volta anche una residenza artistica. Senz'altro fare arte in questo contesto è qualcosa di particolare perché non sempre si fa pittura come si dice en plein air cioè in mezzo alla natura ma permette agli artisti un po' di uscire dalla propria zona di comfort quindi dal proprio studio e essere appunto contaminati dal passaggio delle persone che si fermano a chiedono dal verde. Il pianoforte che ispira anche l'arte visiva per la prima volta naturalmente pianoforte Festival Anima del Casentino una residenza artistica ideata da Chiara Cardini critica d'arte che coinvolgerà una decina di artisti provenienti da tutta Italia che creeranno colorati vestilli fittorici di diversi formati negli spazi del Festival Prato Vecchio. Abbiamo deciso di invitare dieci artisti che si occupano di arte visiva quindi arte figurativa contemporanea a raccontare l'esperienza che il Festival offre e lasciarci suggestionare dalle persone che abitano questi luoghi dall'ambiente e soprattutto dalla musica del pianoforte che volando nell'aria ci ha fatto pensare che anche i colori potessero essere qualcosa che testimoniasse il tema della resistenza e di un pensiero di libertà. Perché questo? Perché abbiamo deciso che non fossero semplicemente quadri con una cornice ma fossero degli standardi come in passato esistevano cortei civili cortei religiosi processioni in cui si sventolavano delle bandiere ecco magari gli artisti visivi non saranno proprio degli alfieri esperti nell'arte del gioco della bandiera ma potrebbero essere degli alfieri portatori di un pensiero di libertà e di comunità. una volta che le opere degli artisti in questo contesto del lungo arno saranno terminate verranno affisse sulle strutture e creeranno proprio dei vessilli che verranno trasportati a mano dagli artisti all'anificio Berti dove si costruirà una mostra work in progress che quindi prende vita in questi giorni inoltre un artista ha deciso di donare uno dei suoi lavori a uno degli sponsor del festival Torniamo in città dal 23 al 27 luglio Arezzo ospiterà la seconda edizione di Opera Seme Festival a 5 giorni dedicati al mondo dell'Omera Questi giovani che vengono un po' da tutto il mondo in questo caso molti americani e lavorano con insegnanti internazionali questi ragazzi veramente prendono quelle che sono le radici proprio della nostra cultura e per poi dopo approdare al mondo dello spettacolo Opera Seme nasce dall'incontro tra Italia e Stati Uniti con un'apertura a cantanti in formazione ed insegnanti europei ed internazionali per offrire spettacoli innovativi che guardano al passato e alla grande tradizione dell'opera lirica italiana il festival torna così ad Arezzo per la sua seconda edizione dal 23 al 27 luglio verranno presentati 5 giorni di opere con un concerto finale al Teatro Petrarca legato all'opera contemporanea che è appunto il musical di Broadway diciamo che i concerti sono gratuiti inizieremo con il Chiostro del Comune dove tutti sono invitati per questo bellissimo opera di Cimarosa il Matrimonio Segreto avremo un'orchestra di 10 elementi o di orchestra con 6 cantanti americani in questo caso e poi dopo proseguirà il Castello di Valenzano per poi avere altre due opere con due opere di Gluck alla Camu quindi la Casa della Musica si aprirà come teatro alla città quindi 5 giorni anche di Masterclass abbiamo qui 23 studenti dall'università di Dappertutto negli Stati Uniti da California da Kansas da New York Dappertutto che sono qui per un mese e anche ci sono tanti genitori e parenti che vengono a vedere le opere allora spero che sia una grande cosa per noi ma una cosa molto buona per Arezzo per avere tutti che vengono qui per tutti un mese a noi piace tanto Arezzo siamo molto contenti di essere qui e adesso lo sport l'Arezzo ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo Sebastiano Bianchi alla Casertana per la stagione 2024-2025 per il centrocampista classe 2003 a reduce da due stagioni con la maglia dell'Arezzo nelle quali ha collezionato 57 presenze impreziosite da tre reti sarà un'occasione per mettere in mostra le proprie qualità con continuità in un contesto di assoluto livello come il girone C di Lega Pro per quanto riguarda il basket invece nei giorni scorsi il Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanesto ha ratificato la composizione ufficiale dei gironi del campionato di Serie B la SBA dunque è stata inserita nella Division B della Conference Nord-Ovest assieme a tutte le altre squadre toscane e allo Spezia Basket Club da segnalare la presenza di tre formazioni senesi oltre la Virtus di Coccio Evangelisti la SBA sfiderà il Costone e la Mensa San in Francia invece Luca e Bidunella di Barbagia indosseranno i colori della Nazionale saranno infatti proprio loro a rappresentare l'Italia in quella che di fatto sarà la prova utile all'accesso alla Mondiale di Endurance nella categoria Giovani Cavalli l'appuntamento è per il prossimo 2 agosto quando il casentinese e il suo destriero saranno impegnati nella sfida di resistenza equestre su un tracciato di 120 km diviso in 4 circuiti questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci